Buongiorno amici di Sfadermincasteddu faccio questo video per salutare soprattutto gli amici di Capoterra che mi avevano legato questa magnifica magliettina per l'evento della danza del sangue con l'abis volevo incominciare a prevedere un paio di esercizi semplici che possiamo fare tutti quanti a casa volevo prevedere dei movimenti e degli esercizi per incominciare a praticare un po' di sport a chi comunque voleva iniziare a fare quello che faccio io ovviamente io faccio delle cose molto per le cose però mi alleno tantissimo dobbiamo potenziare prima di tutto il corpo e la perseguità dei nostri movimenti braccio giù in ponte e cominciamo a vedere le pressioni qui e sono dieci poi cambiamo andiamo le mani così a diamante qua di nuovo dieci una ok dopo di che braccia aperte distanti l'uno dall'altro qua così e scendiamo uno due tre quattro cinque sette otto e dieci ok questi tre semplici esercizi li ripetiamo per tre volte quindi trenta per ogni esercizio per ogni pressione normale a diamante e largo poi ovviamente non possono mancare le addominali possiamo fare quelli classici se avessi se avessi un divano o una se avessi qualcuno magari che vi aiuta che stare insieme a voi qualcuno che vi tenga le gambe possiamo fare quelli semplici schiera giù mani alla testa e andiamo uno due tre quattro cinque un due tre 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 addominali anche questo una bella serie da tre quindi 30 riposato un minutino altri 30 un altro minutino di riposo e altri 30 un altro esercizio che possiamo praticare sono le pressioni e le trazioni alla sbarra io mi sono munito di questa sbarra qui che comunque è facilmente recuperabile lo vendono in qualsiasi negozio sportivo o comunque su internet io personalmente ho la fortuna di vivere in una mansarda e qui nel mio tetto in legno e ho questi bellissimi travoni questi bellissimi travoni da dove mi posso appendere quindi gli esercizi sono questi mani di varicate larghezza delle spalle su e andiamo completamente in drittico al corpo su uno due tre due quattro cinque sei sette otto nove dieci poi sempre nella trave avviciniamo le mani quindi le mani attaccate a loro stessa cosa ci appendiamo il corpo dritto su su uno due tre nove dieci ok amici un altro esercizio sempre nella trave adesso in questa volta però braccia larghe il più possibile il più possibile quindi allarghiamo così e saliamo uno devo dire che questo è quello che fa più male un altro esercizio è più allenale può essere questo sempre semplice possiamo fare tutti ripeto per chi sta iniziando per chi vuole incominciare a potenziarsi i gomiti in terra così mani sui fianchi solleviamo da terra le caviglie e i talloni di 15 cm e cominciamo 1 2 3 4 29 30 ok questo esercizio è lo stesso lo ripetiamo per tre volte ok avete visto due semplici esercizi metteteli in pratica allenatevi e magari i giovani ne vediamo altri adesso incominciate a fortificare il corpo e prima si impara a cadere e poi si impara a saltare a presto